Inanitiamo Macerata Racconta L'immagine non ha nessun valore se non ha un ritmo musicale. L'immagine cresce dentro di noi prima di trovare. Non si trova niente perché alla fine non bisogna cercare se non dentro di te. Il tripponario è una raccolta di termini dialettali del dialetto fermano maceratesi. È un anello di congiunzione tra la nuova generazione e quella passata. Tre parole divertente, dei ricordi perché ti fa ricordare vecchie scene, anche i ricordi dei nonni. È scambiabile. Era in riferimento a una critica uscita nel 1966 all'opera di Roger Judren sulla Nouvelle Revue francese. Credo che oggi sia un momento estremamente affascinante per chi fa musica e per chi è passato in musica perché ci sono tantissime realtà da scoprire estremamente affascinanti. Ho fatto un progetto insieme a un gruppo di ragazze, un progetto condiviso, una ventina, che si chiamava cosa per essere una ragazze, che era un progetto che era un progetto per intervistare mille ragazze sulle tre. Il lavoro era concepito così, erano dieci domande uguali per tutte. Quindi, dovendo essere dieci domande uguali per bambine molto piccole, ancora in tempo scolare, signore di 90 anni, perché donne della vita o ragazze della vostra, erano domande studiate molto a lungo. Grazie a tutti. Ho scritto questo libro destinato principalmente ai ragazzi e alle ragazze che sono venuti dopo il 1973. Penso che conoscere il nostro passato, la memoria, ci aiuta a vivere meglio e a capire qualcosa di più. Grazie a tutti.